Torniamo insieme per ritornare a parlare di presepi, siamo ancora nel pieno appunto delle festività natalizie caratterizzate dalla nascita di Gesù Bambino e prima di dare spazio a un ospite che ci è venuto a trovare in studio vi accompagneremo alla scoperta del presepe del professor Rocco Curcitti e figli presepisti dal 1955 in questo storico e grande presepe nella città di Varapodio per cui pregherei la regia di condividere con noi le immagini di questo presepe molto particolare come vi dicevo realizzato dal professor Rocco Curcitti e figli che sono presepisti dal 1955 con la loro arte presepiale realizzano presepi e mini presepi sia tradizionali che meccanizzati come quello che stiamo osservando adesso Nella sede dell'Associazione Culturale Presepisti Crucitti sabato 16 dicembre è stato inaugurato il grande e suggestivo presepe tradizionale artistico ed elettromeccanico che riproduce in maniera assai realistica la rappresentazione della nascita di Gesù Cristo Il presepe si può visitare tutti i giorni fino al 31 gennaio 2024 presso la sede dell'Associazione a Varapodio in provincia di Reggio Calabria la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 20 con ingresso gratuito I presepisti crucitti realizzano il loro presepe rinnovandolo di anno in anno con impegno, passione, fantasia artistica e cura dei dettagli storico-evangelici perpetuano così con fede, amore e passione questa antica tradizione cattolica tanto amata da papi, santi e mistici che riesce ad attirare ancora oggi da ogni dove tanti visitatori piccoli e grandi Nel presepe come potete vedere sono presenti i personaggi e i luoghi della tradizione nella capanna abbiamo visto San Giuseppe, la Madonna, il Bue, l'Asinello, l'Angelo e i Re Magi che fanno corona a Gesù Bambino e poi in questo paesaggio semplice ma suggestivo si scorge lo spaccato di una giornata di villaggio della Palestina ai tempi di Gesù e della Calabria ai tempi dei nostri nonni quindi potete vedere il maniscalco che sta afferrando gli zoccoli ad un asinello dovrebbe essere sì un asinello e poi ancora il fabbro che sta lavorando il ferro e altre scene di vita quotidiana come il pescatore che sta rammendando le reti quello che sta gettando l'amo nel fiume, la lavandaia la donna che impasta il pane insomma davvero un presepe molto suggestivo che vi invitiamo ad andare a visitare a Varapodio in provincia di Reggio Calabria di Reggio Calabria fino a tutto il 31 gennaio 2024 grazie 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 grazie